Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi riportiamo le ultime notizie sui movimenti del mercato dei trasferimenti, ma prima di approfondire, sai già cosa fare, giusto? Metti mi piace, suona e iscriviti per rimanere aggiornato. Andiamo! Il Napoli ha intenzione di dare una scossa alla prossima finestra di mercato estiva e le speculazioni puntano a... Un obiettivo interessante. Matt Wiffer, centrocampista classe 1999 attualmente in forza al Feier Nord, è nel radar del club italiano. Con due gol in 14 partite in questa stagione, Wiffer ha attirato l'attenzione. Con l'imminente partenza di Frank Anguissa per la Coppa d'Africa, il Napoli cerca di rinforzare il proprio centrocampo. La concorrenza però è agguerrita. Soprattutto da parte dell'Atletico de Madrid, che spinge per portare Wiffer al metropolitano. Ma tranquilli tifosi, la volontà del Feier Nord è resiliente. Non intendono rinunciare a Wiffer a gennaio, preferendo rinviare ogni discussione a giugno. Il Napoli dovrà presentare una proposta convincente per superare la fermezza del Feier Nord e la concorrenza. Dell'Atletico Madrid, e adesso, Napoli, cosa ne pensi di questa mossa? Ma Swiffer sarebbe il pezzo chiave di cui abbiamo bisogno a centrocampo. Lasciate le vostre opinioni nei commenti. Vogliamo sapere cosa ne pensa la nazione azzurra a riguardo. E, naturalmente, non dimenticare di mettere mi piace, condividere con tutti e iscriverti per non perdere nessun dettaglio. Il mercato promette forti emozioni e noi saremo qui per portarvi tutti gli aggiornamenti direttamente. Forza Napoli sempre!